Mentre la Camera ha dato il suo nulla osta all'introduzione dell'omicidio stradale e il testo di legge torna al Senato per il voto finale, in Calabria, sulla 106 ribattezzata la strada della morte, si continua a morire. Il senatore Antonio Gentile, insieme ad altri 9 colleghi, si è fatto nuovamente promotore di un documento indirizzato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere conto dei clamorosi ritardi nell'avvio dell'opera di ammodernamento del terzo macrolotto della statale 106 tra Sibari e Rosetto. Lavori di ampliamento e di messa in sicurezza quanto mai necessari, se si considera tra l'altro che l'unica arteria della costa ionica calabrese capace di collegare la rete autostradale tirrenica a quella adriatica, un'opera che se realizzata renderebbe più sicura quella strada maledetta detta del Presidente dell'Associazione Basta Vittime sulla strada statale 106, Fabio Pugliese. Ricordando la lunga scie di sangue, le 20 vittime che su quell'asfalto hanno perso la vita dal 1 gennaio del 2015 fino ad oggi, una vita spezzata ogni 14 giorni. L'ultima è Giampiero Scalercio, militare servitore dello Stato, carabiniere di 55 anni in forza alla stazione di Ciron Marina.